Musica Ah beh, Phil Clacar ha vinto l'Orano Pro 2023 battendo a Sam Mostafa anche in maniera un po' sorprendente non che avessi visto le condizioni di entrambi prima della gara ma il blasone di Sam Mostafa è sicuramente più elevato di quello di Phil Clacar che è quasi un cinquantenne, ve lo ricordate che abbiamo visto qualche anno fa fare qualche buona prestazione però mi sarebbe aspettato una vittoria di Sam Mostafa, penso un po' come tutti anche dopo il suo secondo posto dietro a un Ian Valliere in versione abbastanza umile, alto tanto pro, questa è la scroll card, se volete mettere in pausa il video e guardare bene i punti non ci sono video particolarmente buoni purtroppo, quindi accontentatevi di questo che ho trovato e delle foto devo dire che guardandoli così non mi sembra che nessuno dei due fosse in una condizione incredibile Phil Clacar sicuramente era un po' più definito, forse a Sam Mostafa aveva un po' più d'acqua io personalmente preferisco a Sam Mostafa perché ha delle gambe più proporzionate alla parte alta del corpo rispetto a un Phil Clacar che un po' le sta perdendo anche data l'età e mi ricordo che due anni fa aveva anche un'ottima schiena Phil che quest'anno secondo me sta iniziando a perdere cioè l'età avanza e raggiunge tutti lui compreso quindi non mi pare che fossero chissà in che condizione strabiliante probabilmente se qualcuno fosse stato un po' più sveglio avrebbe potuto partecipare a questa gara e vincere tranquillamente anziché magari doversi fare il culo contro qualcun altro in altre gare più blasonate non che Larno Pro sia una garetta le gare più o meno sono tutte uguali a livello di blasone però secondo me qualcuno si sta mangiando le mani e quando dico qualcuno non mi sto riferendo a bodybuilder particolari sto dicendo proprio bodybuilder che secondo me sono superiori sia a Sam Mostafa che a Phil Clacar che magari dovranno arrivare secondi dietro a qualcun altro e mangiarsi le mani perché avrei potuto gareggiare in questa gara e vincere non dico tranquillamente però poi questo quando vedrete anche le foto capirete che non mi pare che il livello fosse particolarmente alto per questo dico qualcuno avrei potuto gareggiare e magari dirlo con se non di poi minca se avessi gareggiato probabilmente avrei vinto e mi sei già qualificato a Miss Olympia dovrei gareggiare di nuovo in tale gara contro chissà chi e magari arrivare secondo in questo senso lo dico comunque venendo ai fatti più concreti mi sembra che Phil fosse mia definizione superiore rispetto ad Hassan forse anche un colpo d'occhio un po' più estetico però ho sentito parlare di distensione addominale di Hassan ma anche Phil non è che avesse l'addome particolarmente in controllo con ciò non sto parlando di spacciamenti disumani però per entrambi non mi pare ci fosse un addome ultra controllato credo che Phil avesse dalla sua un colpo d'occhio leggermente più estetico leggermente più bello da vedere guardate anche qui l'addome di Phil che non è che sia quello di Frank Zane le gambe di Phil sono leggermente più piccole rispetto a quelle di Hassan credo che abbiano premiato il colpo d'occhio leggermente più estetico è una definizione leggermente superiore di Phil Clark però credo che sarete d'accordo con me nel dire che non è stato un contest particolarmente nobile dal livello particolarmente alto le braccia di Phil non mi piacciono molto sono superiori a quelle di Hassan secondo me ha un fisico di un bodybuilder di 50 anni quindi non particolarmente fresco però probabilmente meritava di vincere come detto definizione superiore colpo d'occhio un po' più estetico magari un po' più bello da vedere nel complesso una Sam Mostafa che se fosse arrivato più definito avrei potuto fare sicuramente meglio però comunque chi vince ha sempre ragione quindi very compliments come dico sempre a Phil Clark che vedremo all'Olimpia quindi fatemi sapere che ne pensate e perciò farvi domatemi più notizie alla morte di quel tipo che si chiama Joe Aesthetic perché non lo conosco e non penso che fare un video su di lui buona a Phil Clark che si chiama